Martedì ho avuto una risposta, ribadisco, pessima. Ci siamo richiusi nello spogliatoio ieri, l'atteggiamento di ieri è stato molto diverso. Non so dirti onestamente che cosa si è scattato nella testa di qualcuno. Chiaramente, ripeto, domenica la botta è stata forte. Io ancora faccio fatica a dormire la notte, ma non cambia l'evoluzione di quello che è stato. Hai ragione, ci danno per morti più di quello che lo siamo e allo stesso tempo gli incastri di risultati non sono dei risultati impossibili. Quindi, come giustamente hai sottolineato tu, l'altro aspetto su cui ho voluto riempatizzare e resettare la squadra è che noi dobbiamo andare a fare la nostra partita e dobbiamo rispettare il nostro campionato, ma allo stesso tempo tenere la spina attaccata ci deve servire a essere pronti qualora i risultati dovessero sorriderci. Quindi nessuno si deve sentire a fine corsa perché fino a domenica sera almeno non lo siamo. Caleb non recupera sicuro, Patrick al 99.9% non recupera, anche perché ne approfitto. Patrick domenica ha fatto una cosa che in pochi avrebbero fatto. Ha messo la sua salute dietro alla squadra e quindi io questo glielo riconoscerò sempre, lo riconoscerò pubblicamente, privatamente, con chi mi chiederà di lui. Quindi sono il primo che non venisse forzato a rimettere la salute dietro. Amadi dovremo recuperarlo, Sykes è stata una precauzionale, Dimitris è in gestione come nelle ultime quattro settimane, quindi niente di diverso dal solito, ma ripeto, non l'ho fatto nelle settimane precedenti, non lo faccio questa, non mi nascondo dietro ai problemi. Chi c'è deve giocare da uomo, tutto il resto conta poco in questo momento.